Per intrufolarsi all'interno del ristorante hanno sfondato la porta d'accesso in vetro con un San Pietrino. Colpi violenti, scagliati a più riprese, che hanno svegliato i residenti del vicolo. Ancora un assalto da parte dei ladri ad un'attività commerciale di Sernia. Il terzo nel giro di pochi giorni messo a segno, dopo quelli denunciati in via Umbria. A finire nel Mirino, stavolta, un noto ristorante di Vicomarilli. Intorno alle tre, qualche ora dopo la chiusura del sabato sera, i ladri hanno scagliato più volte San Pietrino contro la porta d'accesso, per poi fare irruzione nel locale. Il rumore di una pietra che andava in francese vicino a un vetro. Più volte hanno colpito il vetro? Tante, tante volte, tante volte. Anche se penso che l'abbia fatto anche con le mani, perché sembra come se cosa strappasse con le mani. Hanno strappato il vetro quindi con le mani? Sì, penso, io non ho visto niente, però dal rumore che io percepivo da casa. Dal rumore mi sembrava più un legno che si rompeva, cioè che veniva piegato in due. Infatti pensate che era qualche abitazione con una porta in legno. Svegliati dai colpi, alcuni residenti hanno allertato i carabinieri che in queste ore sono sulle tracce dei protagonisti del raid. Furti che ne state con lo svuotarsi della città sono sempre più frequenti. Tre sono quelli su cui indagano le forze dell'ordine. Uno in particolare è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di una pizzeria. Non si esclude che dietro i furti di questi giorni a Isernia possa esserci un'unica regia.